A quasi 600 anni di storia, 589 per la precisione, si è sempre occupato della buona gestione dei farmaci prima per lo Stato Pontificio e negli ultimi 150 anni per la comunità romana con finalità accademiche, culturali e sociali. Parliamo del nobile collegio chimico farmaceutico, una prestigiosa istituzione che vogliamo farvi conoscere attraverso le parole del suo presidente Giuseppe Perroni, che abbiamo avuto modo di incontrare a Roma presso la sede del collegio. L'occasione è il conferimento al dottor Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato di Anze in Italia e presidente di Farmindustria, della qualifica di nobile collegiale onoris causa, un riconoscimento importante che celebra tanti anni di impegno in questo settore nel sociale. Le attività nascono dalla volontà del Papa Martino V, Ottone Colonna, che nella bolla papale in cui donava il bene, cioè il Tempio Romano, chiedeva tre cose agli aromatari di allora, poi speciali e poi farmacisti. Conservare il bene, e questa nostra presenza ne è prova, combattere i ciarlatani e costruire un ospedale per i pellegrini. E ha svolto il ruolo di Ministero della Salute sul territorio fino all'Unità d'Italia del 1870. Oggi ovviamente Comunità d'Italia e certe funzioni sono passate allo Stato italiano, però i valori che per 600 anni hanno conservato nella professione e nell'approccio verso il sofferente, il senso stesso dell'ospitale, cioè dell'ospitalità. Oggi si declinano in atti e concreti di conservazione dei valori culturali e quindi noi in qualche modo viviamo congressi nazionali ed internazionali, quasi sempre relativo al mondo scientifico della salute, in modo da poter sostenere intanto lo stesso mantenimento del bene che fa parte degli obblighi della bolla papale, ma nel frattempo tenere viva cultura nel mondo della farmacia romana. Io sono molto colpito dai valori, sono sempre stato molto colpito dai valori del nobile collegio e quindi credo che tutti noi nella nostra vita di tutti i giorni dobbiamo impegnarci. Io ho avuto la fortuna di svolgere tutta la mia attività professionale in un settore che fa molto per la vita delle persone e noi cerchiamo sempre di regalare più tempo alla vita e più vita al tempo, dico io. E questo credo che sia un valore inestimabile che debba inorgogliere tutti quelli che fanno questo tipo di lavoro, non solo ovviamente nell'industria, quindi tutti quelli che insieme all'industria si operano per cercare di aiutare queste persone, non solo da un punto di vista fisico, perché la malattia non sempre è una malattia fisica, a volte ci sono delle implicazioni morali, delle implicazioni sociali, c'è lo stigma che noi dobbiamo combattere nei confronti di certi malati, quindi mi dà ancora più soddisfazione questa norificenza perché non è solo per meriti professionali ma anche per meriti morali. Io credo che la storia ci insegni tutto quello che ho appena detto, io credo che grazie al valore che ha sempre rappresentato questa professione, credo che ci abbia insegnato tanto e credo che questo insegnamento abbia ancora più valore celebrarlo qui oggi, in questo luogo, in questa giornata, perché sono valori profondi. Credo che un'altra cosa importante sono l'eredità che ci lascia nell'andare avanti e nel fare sempre di più in un mondo che magari grazie alla tecnologia potrà dare ancora di più, quindi la storia ci insegna che magari dai piccoli laboratori dove si confezionavano qualche preparato, perché si parla di aromi, di profumi, di erbe, fino alle biotecnologie, credo che sia un percorso straordinario che va proprio nella direzione di dare più vita al tempo.